Lavinia, invece di studiare, passa le ore a fissare la copertina rossa di Please Please Me con un pensiero fisso in testa, come racimolare i soldi per andare a Liverpool. Ma, dopo un due in pagella, nella sua vita accade una tragedia. In una frazione di secondo mio padre mi si scaglia contro. Cerco di piantare bene i piedi sul pavimento, ma lui riesce a spostarmi, facendomi volare in aria neanche fossi un fuscello al vento. Come un bagliore, il rosso della copertina di Please Please Me mi balena davanti agli occhi. E dopo un attimo, il crack assordante del vinile vivente alle orecchie. Conto a una a una i minuscoli pezzi del bimbo cino nero che si depositano sul pavimento, come gocce di pioggia scura, e formano una macchia sinistra. Lavinia è alla costante ricerca di soldi per il suo futuro viaggio. e per propularseli, insieme alla sua amica del cuore, Cinzia, arriva a scogitare gli espedienti più sbagliati e anche poco ortodossi. Senti, ci servono i soldi. E ti dice, come lo vedi? Rapire qualcuno e poi chiedere il riscatto. Allora, una rapina in banca? Un'idea di te sul raccordo anulare. Non guardare me, non guardare me. Ma già mi vedo la scena. Io, per amore di George, ferma sul raccordo anulare, microgonna e stivali a metà coscia, mi scardo le mani accanto a un fuoco, aspettando che un cliente mi carichi. Mi avvicino timidamente alla prima macchina che si accosta. Mi abbasso per vedere chi c'è alla guida. Ma... Lavinia? Papà! Che ci fai conciata così? No, non è come sembra. Passo a spiegarti tutto. Cidenti, Liverpool, addio! Scarpate tutte queste altre ipotesi, decidiamo di appostarci all'angolo di via Sagno, come due a cartone. E fermiamo i soldi. E fermiamo i passanti chiedendo i soldi per un immaginario biglietto dell'autobus e una fantomatica donna ricoverata all'ospedale. Dopo due ore, in un bar, rovesciamo il contenuto delle tracotte su un tavolinetto e cominciamo a contare soldi. Uno? Due? Sì, Liverpool! Stiamo arrivando! Ma... Lavinia? Non sogna solo Liverpool, no? Sogna anche... la morte di un adulto che la opprime. Ecco, improvvisamente, lo spirito di Anthony Perkins, in Psycho, si impossessa di me e già vi vedo la scena. Io entro in bagno mentre lui è nudo sotto la doccia, alzo il coltello e lo fanno più forte nella sua carnele. Mentre lui si accascia al suolo moribondo. Nella testa mi rimbombano pure i violini della colonna sonora. fatta tim